Un'ondata di maltempo interesserà la Liguria e in particolar modo il ponente Ligure nel prossimo weekend. Nel dettaglio piogge temporali sono attesi a partire dalle prime ore della giornata di domani. L'ARPA l'ha evidenziato che la presenza di una profonda saccatura sulla penisola iberica favorisce l'instaurarsi di correnti umidi sulla regione con piogge e rovesci associati che interesseranno in particolare il centro ponente. Il successivo isolamento di un minimo depressionario sul Mediterraneo centrale determinerà una persistenza di fenomeni con rovesci e piogge diffuse nei giorni successivi che interesseranno ancora il centro ponente. Insomma la giornata dell'Epifania e la successiva domenica saranno all'insegna della pioggia ma fino a questo momento non sono stati comunque emessi bollettini di allerta meteo. Assessore Berlino, stagione estiva che è andata bene, invernale che si difende, come va questo turismo in Liguria? Va molto bene, nel senso che a fine novembre abbiamo già raggiunto le presenze dell'intero anno 2016, quindi 2017 si chiuderà, tra pochi giorni avremo i dati con una cifra vicino alle 16 milioni di presenze, quindi direi un successo. Quello che a me preme di più sottolineare è che abbiamo avuto un novembre molto positivo dal punto di vista degli arrivi e delle presenze, quindi vuol dire che il nostro progetto di destagionalizzazione sta iniziando a dare i suoi frutti, il progetto è naturalmente quello di promozione della nostra Liguria come terra per le ferie di tutto l'anno. Costa e entroterra, un pacchetto completo con i prodotti tipici padroni un po' anche del territorio? Assolutamente sì, sappiamo benissimo che nel periodo non balneare è bello visitare il nostro entroterra, magari con una bella giornata di sole sulla costa e fare qualche incursione nel nostro entroterra alla ricerca dei nostri bellissimi borghi medievali delle ricette e dei prodotti della nostra gastronomia. Lei è anche assessore di trasporti, i trasporti sono molto importanti, ferrovia compresa, c'è una tappa entro breve che è il nuovo contratto di servizio, è così? Sì, in questo mese di gennaio con Trenitalia firmeremo un nuovo contratto di servizio che legherà la regione Liguria a Trenitalia con un contratto di 10 anni più 5 dove dentro ci saranno molte novità che soprattutto tenderanno ad elevare la qualità del servizio, quindi la qualità del viaggio dei nostri viaggiatori, studenti, pendolari, viaggiatori occasionali e anche turisti naturalmente. Assessore Abbo, qualche intervento ancora di lavori pubblici il Comune lo potrà fare? Ne avete annunciati di recente, che cosa c'è di più significativo? Sì, gocce nel mare, purtroppo delle esigenze della città, però qualcosina riusciamo a fare. Abbiamo circa 400 mila euro di risorse e maggiori entrate su alcune voci che riusciamo a raffare noi come lavori pubblici e queste riguardano un rifacimento di un muro vicino alla scuola di Borgo San Moro che è pericolante con una strada sopra, un piccolo intervento di adeguamento antincendio ancora in biblioteca, efficientamento energetico, sostituzione seramenti al piano terzo del Comune, piccoli interventi in varie scuole, in sonorizzazione del riflettore di Piazza mameli, alcune sulle cucine, prevenzione di incendi, tapparelle, insomma piccole cose però a macchia di Leopardo un po' di esigenze che erano lì, quindi cerchiamo di portare avanti un grosso intervento di 135 mila euro sull'impermeabilizzazione di Piazza Toscanini riapertura del Campetto via Domizoni, questo è un piccolo pacchetto, un po' di interventi sull'illuminazione pubblica. Poi un grosso invece lavoro finanziato in altro modo con dei ribassi sui mutui, i vecchi mutui por parasio, 530 mila euro e per il consolidamento di Viale Matteotti, lì da Villa Faravelli, tutto quel lungo tratto di strada che sta cedendo, si farà una palificazione, un intervento insomma di un certo spessore e quindi questi sono interventi che abbiamo pianificato recentemente e che con procedure via via più complicate a seconda degli importi però nei prossimi mesi dovrebbero partire quasi tutti insomma. E in molti casi si tratta, mi pare, di capire di messa in sicurezza, cioè di dover risolvere problemi perché anche i toscanini vuol dire che piove dentro, ai parcheggi. Sì, sono tutte manutenzioni, alcune straordinarie, negli ultimi anni ci siamo dedicati a grossi interventi di manutenzione sull'idrogeologico, basta pensare a Via Gazzano, a Rio Artallo, Frana di Monte Grazie, strada dei Francesi, via San Benedetto, quindi palificazioni su pezzi di strade o frane eccetera, grosse, importanti, milioni di euro. Qui sono cose più piccole però anche di manutenzione degli stabili del comune. La lista sarebbe veramente lunghissima di interventi da fare, le risorse sono quelle che sono però si fa intanto qualcosina a quello che si riesce a fare. Signora, lei che cosa si aspetta dall'anno nuovo? Tante cose, tante cose davvero. Tipo? Tipo salute, tipo prezzi che scendono, tante cose, ma soprattutto che i bimbi stiano bene, quello sì. Che cosa si aspetta dal nuovo anno? Un po' più salute, molta salute. Aspetto quello e basta. Buongiorno, che cosa si aspetta a lei dal nuovo anno? Nulla. Grazie. Prospettive per questo nuovo anno lei ne ha? Speriamo pace del mondo, che gente vivi serenità, senza guerra, senza... che porta bene quest'anno. Buongiorno, che cosa vi aspettate del nuovo anno? Niente di nuovo. Andiamo male, male, guardi. Perché? Proprio male, niente. Buongiorno, che cosa si aspetta a lei dal nuovo anno? Aiuto! Migliore! È uguale, che sia un bel anno. Niente di buono. Perché? Perché sarà sempre peggio. Cosa c'è di nuovo? Tutto, non va niente in Italia, non va niente bene. Speriamo nella salute, ma io ho fiducia. Speriamo nella... come dire... di star bene e poi dopo quello che viene, viene. Signora, lei che cosa si aspetta dal 2018? Un po' meglio del 2017. Soprattutto salute, persone molto brave e che il governo vada meglio. Quello di primo o quello che viene. Che cosa si aspetta dal 2018? Niente di nuovo. Secondo un'indagine di ConfCommercio, è in crescita la percentuale di italiani che rispetto a un anno fa è intenzionata ad approfittare dei saldi invernali, che in Liguria hanno il preso il via oggi. Per la ConfCommercio saranno il 61,4% gli acquirenti a caccia di promozioni, quota di quasi tre punti superiori rispetto a quella registrata in occasione del gennaio 2017. Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento, calzature, accessori e biancheria intima. Gli italiani continuano a dare maggiore importanza alla qualità dei prodotti rispetto al prezzo. Il web cresce ancora come canale per gli acquisti e risulta in aumento del 5,2 punti percentuali, la quota degli italiani che ha dichiarato di aver effettuato, almeno una volta nel passato, acquisti online. Sono il 63,8% contro il 58,6% del 2017. Infine, oltre quattro imprese del commercio su cinque affermano che la qualità dei prodotti venduti a saldo sia molto o abbastanza buona. Tale quota risulta in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Tale quota risulta in leggero fantastico.